ladies and gentlemen all the young people this is showtime a belli de casa a belli mia iscrivetevi al canale abbonatevi al canale no profit che è tutto no profit se non vi piace sta faccia sto canale o quello che dico levatevi dal canale oppure ragazzi miei fate come che sei tu te ne devi andare ma è stressato vai all'inter vai alla juve vai dove ti pare te ne devi andare non ti voglio più vedere basta basta oh regà ha funzionato l'altra volta pure questa io lo faccio tutte le domeniche mi frega no ragazzi a parte gli scherzi calma 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 non facciamo come abbiamo fatto con il napoli abbiamo battuto il napoli ecco questo sviaggigio abbiamo battuto il napoli che giocavano davanti con qui qua qua oggi calma perché all'atalanta al parma gli ne mancavano 67 dei giocatori gli hanno fatto una testa così i poracci però gli mancavano 67 giocatori cosa negativa della giornata ragazzi siamo magnati 35 40 42 gol siamo stati poco decisivi l'unica altra cosa negativa della giornata che Ciro oggi non ha segnato però primo tempo primo tempo ragazzi tutti che noia che barba sembravamo tutti Raimondo a Mondaini che barba che noia è vero che barba che noia perché andavamo lenti perché non stavamo a correre ma ci siamo magnati 4 gol cioè sta il corpo di testa dei Caicedo l'uno contro uno dei Caicedo Marusic che buona partita ragazzi buona partita a tutti ma Marusic perché ha fatto quel cross di sinistra adesso lui tira di sinistro e Lazzari oggi buona partita di Motocuzzi Lazzari che è ritornato un po' come quello dell'altro anno grande assist e niente ragazzi Caicedo gran cullasso il barbiere di Siviglia si è sbarbato è tutto bello adesso fa anche la danza si è mangiato un po' però dopo ragazzi pure lì il secondo tempo ci siamo mangiati tanto gol e ero molto preoccupato stavo a parlare con Famiano stavo a parlare con parlavo con tutti gli amici ero molto preoccupato perché ragazzi peccato che ho mandato un audio non so se lo dirà Falco ma io ve lo dico lo dirà ho mandato un audio a Falco che lui mi dice tanto lo sai questa come va a finire e io gli scrivo se ci dice bene pareggiamo poi riprendo il telefono gli faccio un audio dove la blasfemia è di casa dove il Masseo in confronto mi spiccia a casa nel mentre che gli dicevo questa cosa ma Lazzari Lazzari cross al centro gol e l'esultanza sempre come il buon Masseo però che è successo che lui stava 5 secondi indietro quindi io l'ho detto io così il gol arporo amico mio Falco no ragazzi a parte gli scherzi che cos'altro c'è da dire ah che per un secondo me sembrava desognà quando a Cacpro a GoPro prender giallo ci sta il cambio di Caicedo scusa bless you c'è il cambio di Caicedo e lui si avvicina alla panchina per parlare qualcosa e dico no che davvero questo voleva perché ha preso il giallo allora c'è qualche problema veramente nella Lazio cioè se tu vuoi farti togliere perché sei stanco te fai ammonire sistematicamente Simoncino no invece no invece no è entrato per Eira ragazzi un paio di pezzi grossi egoista forse poteva passare la palla a Ciro per fargli fare il gol però ragazzi lo capisco pure questo questo c'è una voglia ha fatto pure quel bel pezzo lì che si è già su se stesso il ragazzo c'è il ragazzo c'è dobbiamo capire perché non gioca così tanto però va bene non facciamo polemica una giornata che siamo riusciti a portare via tre punti fondamentali contro un Parma ripeto ho rimaneggiato mancavano troppi giocatori nuovo allenatore quindi con calma non non fami quatti non famo niente con calma sapete che cosa c'è sapete cosa sta arrivando con calma con calma concentrati affari spenti guardate che della stanno bene però ricordatevi pure che si vincono i derby con i filippini quindi mutismo e non rassegnazione concentrazione adesso non gli rompete il cavolo a nessuno zitti fateli lavorare con calma non pompateli non stressateli non divasemo pensiamo solo a galvanizzarli e a fargli capire che cos'è il derby per noi per il resto calma calma vi prego calma vi prego calma ok considerazione o incredibile o Patrick le gioca tutte può succedere qualsiasi cosa lui le avrà giocate tutte a fine io come fai come fai Patrick ma stavi pure a Capitol Hill dove stai come fai a stare in mezzo come il prezzetto diciamolo sempre però a parte gli scherzi abbiamo risparmiato abbiamo risparmiato importante Hut perché era diffidato Kaiseto io sempre in mode blasfemy gli chiedevo al buon falco perché non leva Kaiseto perché non leva Kaiseto perché non leva Kaiseto abbiamo tolto anche Kaiseto e Scalante non è entrato ci siamo ci siamo preservati anche lui ancora una Lazio migliore sembra che si sta ritornando un po' fuori ragazzi poi c'è gente che ci capisce che ci ho parlato per 56 Lazio cose del genere dicono magari la Lazio aveva fatto una preparazione atletica atletica che doveva dare i suoi frutti nella seconda parte della stagione in quanto si sperava di arrivare alla seconda parte della champions non si sperava di trovare i più forti della galassia però magari c'era questa intenzione di scattare ragazzi non so sto a provare a fare tutto comunque niente questa sera adesso devo andare in radio una radio dove ci facciamo due risate parlo di di football americano se volete sapere dove sono andate sul mio instagram e mi andate a vedere mai domo per chi volesse all'italiana m a i d o m o mai domo ancora grazie a tutti ci vediamo quindi forse dopo il live questo questa sera sul tardi a che vi dovevo dire e ricordatevi per quello che avete festeggiato ieri noi vogliamo a prescindere questa cosa che forse molti ci hanno anche preso in giro ma quando perdete che fate non volate volamo uguale a prescindere perché noi siamo chi siamo gli altri non lo sapranno mai non lo saranno mai quindi noi volamo e l'altri strisciano dai regà